Niente didattica a distanza se c'è un solo positivo, se sono due quarantena selettiva a seconda dei vaccinati o meno e si resta tutti a casa se i casi sono almeno tre. In arrivo un nuovo protocollo covid per la scuola sarà approvato tra oggi e domani dal governo. L'obiettivo è di limitare al minimo la didattica a distanza attraverso una modifica al meccanismo per la quarantena. L'isolamento degli alunni, stando alle indiscrezioni, dovrebbe scattare solo in caso di tre persone positive in una classe e non più dopo una sola positività. A disporre la sospensione delle elezioni in presenza, d'ora in poi, non saranno più i presidi ma le autorità sanitarie. Il protocollo sarà diverso a seconda della fascia d'età degli alunni tenuto conto che sotto i 12 anni non esista al momento un vaccino e che per i più piccoli, fino ai sei anni, non è prevista nemmeno la mascherina in aula. Per questo la botte in esame elenca la possibile casistica, in presenza di un caso positivo i compagni di classe faranno un test subito e uno dopo cinque giorni. Nel caso di due positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi faranno la sorveglianza con tampone, i non vaccinati la quarantena. Nel caso di tre positivi andrà in isolamento tutta la classe. Un caso ancora diverso è quello dei servizi dell'infanzia. Per i più piccoli, dai zero ai sei anni, è prevista una quarantena di dieci giorni, al termine della quale dovranno effettuare un test. Intanto prende corpo l'ipotesi di assegnare al personale scolastico una corsia preferenziale per la terza dose del vaccino anti-covid.